Ho smesso di essere un pallone gonfiato alcuni anni fa. Non volevo dire questo. Invece sì. Ho cominciato a venire in questo posto dai tempi del college. Scuola d'economia? Medicina. Davvero? Certamente. E cos'è successo? Tutti prendevano medicina solo per fare soldi. E non facevano che parlare di azioni, perciò ho deciso di eliminare l'intermediario. E tu? Beh, io... Io facevo il poliziotto. Stai scherzando? Sono stata in servizio quattro anni e due mesi. Dici, su un serio? Solo che non ero poi così brava. Questo lo scuola. E dimmi... A cosa lavoravi? Corpi speciali. Era un borghese. Perché hai lasciato? Non te lo so dire, perché non lo so neanch'io. Mi sembra giusto. E adesso cosa fai? Indagini assicurative. Non è così diverso rispetto al poliziotto. Soltanto meno lavoro di gambe, più lavoro di carte. Io... Sono sposato. Ecco, volevo solo che lo sapessi. Non vorrei darti l'impressione sbagliata. Beh, io... Sono single. Se ti può interessare. Non che il mio sia un matrimonio perfetto. Assolutamente. Ma non la tradisco. Ma non la tradisco.